Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca Ma Abramo rispose Hanno Mosè e i profeti Ascoltino loro E lui replicò No padre Abramo Ma se dai morti qualcuno andrà da loro Si convertiranno Abramo rispose Se non ascoltano Mosè e i profeti Non saranno persuasi Neanche se uno risorgesse dai morti Ignorare il povero E disprezzare Dio E questo dobbiamo impararlo bene Ignorare il povero E disprezzare Dio C'è un particolare Nella parabola Che va notato Il ricco Non ha un nome Soltanto l'aggettivo Il ricco Mentre Quello del povero È ripetuto Cinque volte E Lazzaro Significa Dio aiuta Lazzaro Che giace davanti alla porta È un richiamo vivente al ricco Per ricordarsi di Dio Ma il ricco Non accoglie Tale richiamo Sarà condannato Pertanto Non per le sue ricchezze Ma per essere stato incapace Di sentire compassione Per Lazzaro E di soccorrerlo Il ricco conosceva La parola di Dio Ma non l'ha lasciato entrare nel cuore Non l'ha ascoltata Perciò È stato incapace Di aprire gli occhi E di avere compassione Del povero Nessun messaggero E nessun messaggio Potranno sostituire I poveri Che incontramo Nel camino Perché in essi Ci viene incontro Gesù stesso Così Nel rovesciamento Delle sorti Che la parabola Descrive È nascosto Il mistero Della nostra salvezza In cui Cristo unisce La povertà Alla misericordia Della nostra salvezza Della nostra salvezza Della nostra salvezza Mi something in